La conferenza stampa del sindaco Giuseppe Catania relativa alla struttura ospedaliera Maria Immacolata Longo e sull'accordo tra il Comune di Mussomeli e l'UNR, l'Università Pubblica di Rosario Facoltà di Medicina La conferenza stampa del sindaco Giuseppe Catania La stampa, ringrazio Roberto, ringrazio il direttore Barba, ringrazio Emilia per aver risposto positivamente all'invito a questa conferenza stampa il cui obiettivo, il cui oggetto soprattutto sarà legato alla nostra struttura ospedaliera e a quelle che sono le soluzioni che come amministrazione, quindi come Comune di Mussomeli, come giunta comunale, come commissione sanità abbiamo presentato all'attenzione della direzione strategica. Ringrazio e saluto per la loro presenza ovviamente anche il Presidente della Commissione Sanità, San Vero Cervino, la componente della Commissione di Eugenia, Schifano, l'Assessore alla Sanità in Chessica Valenza, il Presidente del Consiglio e poi gli altri componenti, c'è la salvatore che non vedo più, è il senso. E ringrazio, permettetemi, un ringraziamento agli amici Javier e Erika Ruscatello con cui un anno fa, ormai abbiamo più o meno, abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione, un accordo che sta dando davvero preziosi e grandi punti su più settore e su più campi, sia sul piano dello sviluppo economico, visto che abbiamo in corso diverse iniziative, sia anche su questo tema legato al potenziamento della sanità che è il tema oggetto di questa conferenza stampa. Perché è la conferenza stampa? Perché volevamo fare il punto della situazione su quello che è un servizio che per noi diventa fondamentale. Quando dico per noi intendo non solo per la comunità di Eugenia, perché ricordiamoci sempre che l'ospedale è una struttura che è al servizio di una comunità molto più ampia, una comunità che coinvolge almeno 14 comuni. Tutto il ballone certamente, i comuni dell'Aeroggettino che sono nostri vicini di casa, oltre che quelli del Palermetano che essi vicini di casa. Quindi un bacino di utenza di 70-75 mila persone che ovviamente vedono nella struttura ospedaliera un punto più libero. Allora dobbiamo partire da che cosa? Dobbiamo partire dal fatto che l'8 febbraio 2019, come tutti voi sapete, è stata pubblicata sul gazzetto ufficiale della regione siciliana la nuova retta ospedaliera che ha, diciamo, fatto una fotografia di tutte le strutture ospedaliere presenti nel territorio regionale individuando per ciascuna di loro il percorso sul piano organizzativo e sul piano dell'offerta sanitaria da portare avanti. Nell'ambito di questa retta ospedaliera il nostro ospedale, l'ospedale Maria di Napolato Longo, è stato individuato come presidio sanitario di zona diseggiata. Per tutte le ragioni che tutti noi sappiamo, ragioni orografiche, viabilità, il fatto che siamo comunque in una comunità parzialmente montana, con i disagi e le difficoltà, soprattutto in inverno che è questo punto. Ebbene, da questa retta ospedaliera è messa quella che è l'offerta sanitaria che il nostro ospedale deve poter mettere a disposizione di questa comunità di 70-75 mila persone. Offerta sanitaria che ho nella cartella approvate e che prevede la presenza della chirurgia generale con 6 posti letto, della medicina generale con 14 posti letto, dell'ortopedia e traumatologia con 10 posti letto, della pediatria con 6 posti letto, della riabilitazione con 3 posti letto e della lungo d'ergenza con 8 posti letto, oltre alla presenza di 3 servizi cosiddetti che sono la gastroenterologia, che sono la dialisi e che sono anche l'opomistica, oltre ovviamente i servizi trasversali, pronto soccorso, radiologia e laboratorio di analisi. Ebbene, a distanza di 3 anni ormai, quasi 3 anni, la nuova rete ospedaliera di fatto non è mai stata attuata a regime nella sua pienezza per tutta una serie di questione. Innanzitutto alla rete andavano approvati altri due atti di programmazione amministrativa da parte della conferenza dei sindaci e da parte ovviamente dell'ASPE sentiti le autorizzazioni sindacali. E questi altri due atti amministrativi erano da un lato l'atto aziendale che è stato approvato anche questo almeno un anno e mezzo fa e poi mancava l'approvazione dell'ultimo atto che era l'approvazione della dotazione organica che fosse coerente interfunzionale alla rete ospedaliera e all'atto aziendale approvato in 0.1. Ebbene, approvazione della dotazione organica che è avvenuta qualche giorno fa, quindi a distanza di ben due tre anni. Rispetto alla rete ospedaliera che noi abbiamo e tutta l'offerta sanitaria che vi ho appena espresso, è inutile nascondere il fatto che noi abbiamo una rete ospedaliera approvata sulla carta ma che nella realtà vede diverse disfunzioni. In primis il mancato oddio di alcuni di questi reparti che nella rete ospedaliera erano previsti. mi riferisco a pediatria, mi riferisco ad esempio a riabilitazione, mi riferisco alla lungodeggenza anche se era partita e poi è stata sospesa e in concinto non ripartiamo però. E poi mi riferisco soprattutto a quei reparti che malgrado siano attivi o meglio aperti soffrono di carenze, soffrono di difficoltà che ovviamente comportano una parziale qualità dell'offerta sanitaria a beneficio delle nostre comunità. Come amministrazione non ci siamo fermati esclusivamente alla rivendicazione che è certamente necessaria ma che da sola rischia di non essere assolutamente sufficiente alla risoluzione delle problematiche se vogliamo essere, come siamo, amministratori seri e che vogliono risolvere i problemi che sono sul tavolo e non semplicemente manifestarli siamo tutti bravi a trovare una soluzione forse un po' bene. Come amministrazione noi sono tre le soluzioni o il contributo perché non vogliamo avere la presunzione di dover fornire soluzioni ma certamente abbiamo il dovere e il diritto di dover fornire un contributo alla soluzione e sono tre i punti qualificanti della proposta che l'amministrazione comunale ha presentato l'indirizzo della direzione strategica del maschio. La prima proposta riguarda la sottoscrizione di incarichi professionali per periodi lunghi, non certamente a tre mesi, non certamente a sei mesi che scoraggiano in una situazione di carenza generalizzata di personale medico specializzato che scoraggiano chi potenzialmente fosse interessato a venire all'ospedale musulmane a venire perché magari di contro hanno qualche offerta invece più allettante se non altro in termini di durata contrattuale. Quindi la prima proposta che noi abbiamo presentato l'indirizzo della direzione strategica è di predisporre dei contratti per periodi di tempo più lunghi, almeno un anno, in più adesso aggiungiamo, considerata che è stata approvata la votazione organica, contratti invece a tempo indeterminato perché fino ad ora c'era il problema dell'approvazione della dotazione organica, adesso che la dotazione organica è stata approvata è possibile per la direzione strategica dell'ASP predisporre i banni di reclutamento medici a tempo indeterminato. Quindi questa è la prima proposta che formiamo. La seconda proposta che abbiamo presentato e della quale abbiamo iniziato a discutere per la verità è legata al riconoscimento di un incentivo economico, quindi un benefit economico per quei medici specializzati che intendono venire presso i presidi sanitari di zone disagiate. Quindi ovviamente Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, nell'ASP di Caltanissetta non è solo Mussomeli ma ci sono altri ospedali che hanno lo stesso inquadramento. Perché questo? Perché in una situazione di carenza di medici e specialisti a che cosa assistiamo? Assistiamo all'introsia da parte dei medici che ci sono di quelli che sono più anziani e sicuramente sono ormai collocati presso le strutture ospedaliere più grandi e più strutturate. I giovani ovviamente hanno la necessità di iniziare un percorso di acquisizione di esperienza e ovviamente iniziare questo percorso in un ospedale che non ha la struttura al completo e quindi potrebbe sfochi di potenzialmente avere rischi da questo punto di vista allora se devono scegliere scegliono un ospedale che è il più strutturato. Allora ci siamo detti quale potrebbe essere uno dei motivi per cui magari uno pur nella consapevolezza di questi disagi a cui va incontro decide di scegliere un ospedale. Abbiamo mutuato quella che è la situazione che qualche tempo fa si utilizzava nella pubblica istruzione cioè quando c'era un insegnante che andava in una comunità, in una scuola di comunità militana a questa insegnante che gli aveva riconosciuto il doppio dei punteggi quindi questo era un incentivo. Allora siccome veramente in questo caso specifico non è applicabile la questione di punteggi allora proviamo a trasferire la gestione economica e quindi abbiamo già presentato questa proposta, abbiamo avuto modo di discuterne già in una prima battuta l'impegno da parte della direzione strategica in questo mese di gennaio di convocare le organizzazioni sindacali perché è giusto che questa proposta che è fattibile tecnicamente e giuridicamente vada discussa con le organizzazioni sindacali in modo tale da prevedere nell'ambito del fondo aziendale previsto uno specifico sottocapitolo che preveda l'incentivazione del carico. La terza è più innovativa, io direi, proposta e lo dico senza tema di smentita perché credo che Mussomeli da questo punto di vista possa fare da attivista o comunque sia uno dei pochi casi in questo momento in tutta Italia che presenta un'ipotesi di questione. è l'ipotesi che abbiamo messo in campo grazie alla collaborazione con Erika, con Xavier e con l'istituzione argentina la proposta che abbiamo messo in campo qual è? Un accordo di cooperazione internazionale che abbiamo sottoscritto lo scorso 7 dicembre tra il comune di Mussomeli e l'Università Nazionale di Rosario, una delle più prestigiose università pubbliche argentine che conta una facoltà di medicina con ben 42 specializzazioni quindi con le specializzazioni che sono previste all'interno della struttura italiana. Il ragionamento che abbiamo fatto è questo. Tutti gli studi statistici a partire dallo studio commissionato e portato avanti dall'Associazione Nazionale dei medici ospedalieri italiani ci dicono che da qui al 2025 ci sarà una carenza drammatica di medici ospedalieri, di medici specialisti. Si parla di oltre 16.000 medici in meno rispetto a far bisogno in tutta Italia, si parla di oltre 2250 medici specialisti in meno nella sola regione siciliana. questo perché l'età media degli operatori sanitari è medio alta così come in tutta la pubblica amministrazione quindi in questi anni c'è una fuoriuscita per pensionamenti molto alta, questo perché anche la politica formativa dal punto di vista sanitario è portata avanti negli ultimi decenni in Italia ha visto la presenza del numero chiuso in medicina ma soprattutto la cosa peggiore è il numero limitato delle borse di specializzazioni annuali cioè a fronte di circa 10.000 medici che fuoriescono dal percorso universitario ogni anno solo 6.500 mediamente riescono ad accedere alle borse di specializzazione. Questi 6.500 l'anno non sono sufficienti a coprire il fabbisogno e anzi più si va avanti più l'età media aumenta, più vanno in pensione i medici specialisti e quindi meno si riesce a rimpiazzare il fabbisogno. Quindi partendo da questa considerazione ci siamo detti come amministrazione, proviamo a trovare una via magari non battuta finora, magari più rischiosa in termini di soluzione a breve termine ma che può rimuovere in modo definitivo l'ostacolo principale che è la carenza dei medici che è il primo ostacolo, non è certamente l'unico ma sicuramente è il primo ostacolo perché ogni volta che noi chiedevamo il supporto e il potenziamento del reparto di medicina specialistica all'ospedale di Mussonelli, una delle cause del mancato potenziamento che ci veniva detta da tutti gli organi istituzionali e sanitari quindi dalla direzione strategica all'ultimo, io ricordo ancora il tono dell'ultima commissione sanità a Mars in cui da più parti si ribadiva che il vero ostacolo, il vero problema principale era la carenza di medici specialisti. Allora abbiamo provato a battere questa strada, ripeto, più rischiosa, innovativa ma sulla quale credevamo molto e abbiamo sottoscritto questa convenzione con il rettore dell'Università di Rosario che vi ringrazio per la sua assoluta disponibilità e con il decano della facoltà di medicina dell'Università di Rosario. Ebbene, vi dicevo, i primi di dicembre abbiamo sottoscritto questa convenzione dopo qualche giorno è stata fatta una campagna informativa rispetto a questa convenzione sottoscritta straordinaria e qui permettetemi ancora una volta di ringraziare Elie e Xavier che hanno fatto un lavoro davvero magnifico sotto questo profilo e grazie a questa campagna informativa che è stata lanciata in appena nemmeno un mese noi abbiamo ricevuto noi dall'Università di Rosario abbiamo ricevuto oltre 50.000 mail di richiesta informativa cioè una cosa spaventosa che va ben al di là di quella che era la nostra previsione. Addirittura rispetto a queste mail informative diciamo che l'Università di Rosario si trova in questo momento in vacanza perché per il periodo natalizio riaccurrà il 7 febbraio ma malgrado questa vacanza attuale continuo a ricevere informazioni e solo ad oggi abbiamo qualcosa come 2500 curriculum di medici specialisti che ci sono stati uniati in modo spontaneo dagli stessi professionisti quindi ci aspettiamo che il 7 febbraio che è la data di riapertura dell'Università riceveremo diverse migliaia di curriculum di specialisti disposti a trasferirsi. Cosa prevedeva la Convenzione? La Convenzione prevedeva da parte del Comune una manifestazione di interesse rivolta a due medici specialisti argentini che fossero interessati a trasferirsi a Mussomeli e a venire a lavorare a Mussomeli. Quindi diciamo volevamo tastare il polso sulla disponibilità da parte dei medici a venire a lavorare a Mussomeli. Come vi dicevo abbiamo ricevuto ad oggi circa 2500 curriculum, il 7 febbraio riceveremo e siamo certi almeno diverse migliaia di curriculum di specialisti ma tra questi specialisti stiamo facendo un percorso ancora più dettagliato perché la legislazione, il quadro normativo italiano che cosa prevede? prevede che per poter esercitare la professione in Italia occorre aver frequentato un'università dell'Unione Europea o un'università non europea, quindi extra UE, ma avere il titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute. Cioè il Ministero della Salute che cosa fa? Se io medico argentino voglio venire a lavorare in Italia presento il mio percorso di studi, presento tutto l'elenco delle materie che ho studiato sul piano teorico e sul piano pratico. Ovviamente si tratta di un elenco, di un programma di studi che deve essere certificato con il consolato, quindi autogertificazione ufficiale per evitare che vi siano incongruenze e il Ministero della Salute è previsto per legge. Il Ministero della Salute che cosa fa? C'è una specifica istanza che va presentata e il Ministero della Salute attraverso questa istanza con allegati documenti che sono il titolo di studio, il programma di studio, il curriculum, ovviamente tradotto in italiano in lingua ufficiale e certificato dal consolato, entro quattro mesi il Ministero della Salute deve valutare il curriculum che ha ricevuto e dire se in base al percorso di studi quella persona può esercitare la professione in Italia oppure se deve fare un esame abilitativo o se deve fare un periodo di studi ulteriore integrativo per fare questo. Ovviamente nella Convenzione noi abbiamo dato come amministrazione comunale la nostra disponibilità a fornire l'assistenza tecnica per presentare la richiesta oltre che a fornire l'assistenza logistica ai medici che eventualmente verranno, oltre a fornire un percorso di formazione sull'algebraizzazione in italiano per cui i medici magari hanno qualche difficoltà linguistica. Apro una parentesi dicendo che perché l'Argentina? Perché l'80% della popolazione residente in Argentina è di origini italiane, quindi culturalmente e anche sul piano linguistico hanno un'affinità con l'Italia molto forte. pur tuttavia ci aspettavamo noi la presentazione di curriculum di persone non ancora autorizzate dal Ministero. Invece, con nostra grande fortuna e meraviglia, abbiamo ricevuto anche dei curriculum di persone che non solo hanno completato il percorso di studi, non solo hanno una plurinale esperienza, sono persone che sono ricercatori, che hanno fatto pubblicazioni, che hanno diversi anni di esperienza in ospedale prestigioso, ma addirittura sono persone che questo percorso di riconoscimento del titolo lo hanno già completato, ottenendo da parte del Ministero della Salute italiano il decreto di riconoscimento. Nella cartella che vi ho dato, trovate due di questi decreti, noi ad oggi, esattamente, due di questi decreti e come vedete il decreto è indicato, ne leggo uno, decreta il titolo di medico rilasciato il 12 febbraio del 99 all'Università Nazionale di Rosario, al signor eccetera eccetera, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico-chilunico. Quindi noi oggi abbiamo già trasmesso all'ASP di Cartanissetta i primi tre curriculum dei primi tre medici specialisti argentini con regolare di decreto di riconoscimento del titolo e si tratta nello specifico di tre chirurghi di cui uno addirittura con titolo riconosciuto anche di pediatra. E capite benissimo qual è il valore, la portata di questo percorso che abbiamo fatto, atteso che nella nostra struttura ospedaliera noi oggi abbiamo un solo chirurgo che ha un contratto a scadenza al 31 marzo 2021, ad oggi, probabilmente questo contratto verrà rinnovato fino a giugno ma parliamo di un solo chirurgo che deve mantenere un intero reparto di chirurgia. Sappiamo tutti che non abbiamo nemmeno l'ambulatorio di pediatria aperto, non dico il reparto, ma nemmeno l'ambulatorio proprio perché abbiamo carenza di pediatri e quindi il fatto che tra questi tre vi sia un professionista che abbia anche il decreto di riconoscimento di pediatra è per noi assolutamente importante. Al punto in cui siamo, abbiamo già lignato qualche giorno fa questa lettera formale all'ASP, alla direzione strategica e ora siamo in attesa, a qualche ora avrò un incontro con il direttore generale, io sono convinto e non potrebbe essere diversamente che l'obiettivo che ha l'amministrazione comunale di potenziare l'ospedale che coincida perfettamente con l'obiettivo della direzione strategica dell'ASP di Cattanissè. Dico solo che mentre finora si è fatta grande fatica nel perseguire questo obiettivo proprio perché uno degli ostacoli era la carenza di medici, adesso abbiamo un'arma al nostro analo che è quello di avere la disponibilità di medici, attenzione che non è che chiedono di venire a lavorare in Italia abbiamo la disponibilità di medici che hanno dato la disponibilità per venire a lavorare a un sovente. quindi quello che noi abbiamo chiesto all'ASP nella lettera con cui abbiamo nominato i tre pubblici abbiamo chiesto anche di attivare dei percorsi di reclutamento dedicati all'ospedale di Mussolini ovviamente consapevoli del fatto che il percorso di reclutamento può avvenire solo e esclusivamente per rispetto di quella che è la normativa italiana, la normativa prevede l'indizione di un bando quindi noi ci aspettiamo che venne detto un bando aperto a chiunque voglia partecipare dedicato alla struttura di Mussolini, ovviamente in questo bando presuniamo che parteciperanno i medici che ci hanno dichiarato la loro manifestazione di volontà di venire a lavorare in Mussolini ci auguriamo che a questo bando possano partecipare anche ulteriori medici, possibilmente medici siciliani che hanno i titoli per poterlo fare, questo metterà nelle condizioni l'ASP di fare una selezione cercando di scegliere il profilo più alto possibile e che garantisce più possibile la qualità del servizio nel territorio. Riteniamo che questo sia un percorso innovativo, la cosa che ci dà fiducia qual è? Il fatto che ieri è stato annunciato in Pompomagna che la regione Lazio sta facendo un percorso similare al nostro. Sono ancora nella fase iniziale, noi siamo già in una fase molto avanzata, anzi siamo nella fase in cui tutto quello che dovevamo fare noi l'abbiamo fatto, abbiamo solo adesso da aggiungere ulteriori professionalità, non manca che teneremo i profili da parte del nostro partner argentino, ma tutto quello che era nelle nostre possibilità alla parte dell'amministrazione lo abbiamo portato a quel momento. Vi dico anche che la cosa che mi rallegra e mi rende anche soddisfatto di questo percorso è che abbiamo ricevuto la disponibilità da parte di altre università prestigiosi argentine di ampliare la convenzione che abbiamo sottoscritto, di estendere la convenzione con il Comune non solo all'Università di Rosario ma anche ad altre università. Vi dico anche che sono soddisfatto del fatto che anche altre ASP fuori dalla Sicilia ci hanno contattati per chiederci in che modo possono usufruire del percorso che stiamo facendo con il Comune. Ovviamente la soddisfazione piena noi l'avremo solo ed esclusivamente quando verrà il medico specialista a prendere servizio in primo giorno a prendere servizio a Mussolini, però abbiamo la coscienza a posto nel dire che abbiamo seguito un percorso nuovo, permettetemi di dire anche che ha fatto storcere il naso a qualcuno perché lo riteneva poco concreto, poco applicabile, ma quello che a noi interessava e quello che ci interessa è raggiungere l'obiettivo finale. Il percorso è assolutamente praticabile e addirittura è praticabile in tempi molto più rapidi rispetto a quello che ci aspettavamo e quindi questa era l'occasione per fare un po' il punto della situazione e mettere al corrente la cittadinanza di cosa ha prodotto un po' questa azione portata avanti dall'amministrazione. A voi le domande. La lettera, si può avere copia o quantomeno leggere la lettera che è eminato all'ASP? Sì, 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 sì. Vi do assolutamente il copio della lettera in cui, per favore che la stampa. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Perché abbiamo vissuto noi vent'anni fa un problema alla mia generazione, un problema del genere, nel senso che c'era un enorme, un numero diciamo abbastanza elevato di professionisti alla ricerca del lavoro, dove per esempio sul territorio ancora molti dei posti erano saturati, cosa che invece adesso si è predicato quando il problema del numero di uso delle università specialmente nell'ambito medico ci sta creando questi problemi di carenza di specialisti praticamente sul territorio perché da noi adesso è il problema fondamentale e questo potrebbe anche essere poi un'idea dell'ambito nazionale, una valutazione se noi dobbiamo attingere, siamo costretti ad attingere un ambito internazionale di figure professionali effettivamente il sistema sarebbe un po' da lì è quello il problema, andava bene in modo chiuso se c'è effettivamente un corrispettivo tra le figure professionali uscenti e l'esigenza del territorio, ma se questo discorso praticamente viene a mancare perché le figure professionali che escono non riescono a dover colmare le lacune date da giustamente coloro che devono andare in pensione e che tra le altre cose la prospettiva del 2025, quella di un'enorme carenza io credo che sarebbe opportuno che la cura dovesse rivedere un po' dai dati che ci fornisce la Nau, l'Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri ci dice che in Sicilia da qui al 2025 ci sarà una carenza di 2.351 specialisti e in particolare ci sarà una carenza di 356 medici di medicina d'urgenza 276 medici di igiene medicina preventiva, 153 anestesisti e rianimazione 337 medici di chirurgia generale, 66 medici di medicina interna 471 pediatri, 241 psichiatri, 289 ginecologi, 78 ortopedici, 67 medici di medicina e tutto questo la norma è a supporto del fatto che non c'è un'attrattiva nell'ambito della facoltà di medicina perché poi il numero delle richieste dei pretendenti all'entrata sono centinaia di miliardi ragazzi sono un numero enorme e il problema è che il numero chiuso va a creare uno step notevole che non è corrispettivo, cioè non c'è corrispondenza tra il numero praticamente degli accessi annuali all'università con l'esigenza sul territorio quindi sicuramente dovrebbe essere l'artinerario dal momento dell'approvazione della richiesta i tempi per diventare poi effettivi operativi sono già considerati, sono stati stimati o è ancora tutto? allora dobbiamo fare la distinzione del percorso se si tratta di medici che non hanno ancora il titolo riconosciuto la normativa prevede che una volta presentata questa è anche la nota informativa scaricata dal Ministero della Salute quindi dall'opposito ufficio la normativa prevede che venga presentata la richiesta corredata del modello specifico che è lo stesso Ministero della Salute e dalla documentazione che vi dicevo tradotta in italiano e la stessa nota del Ministero ci dice che quando si pagina quanto tempo ci vuole dei tempi allora quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'Università quindi i tempi sono scambiti dallo stesso Ministero in più rispetto a questo percorso la cosa che sta emergendo è che abbiamo anche la possibilità di attingere a profili professionali e specialisti che in questo percorso l'hanno già presentato quindi di fatto devono solo iscriversi all'albo in Italia all'albo dei medici specialisti all'albo provinciale dei medici specialisti che può essere fatto anche prima di essere messo in servizio in tempo di iscrizione all'albo noi abbiamo come dicevo inoltrato il 17 gennaio il 10 gennaio all'indirizzo del direttore generale del direttore sanitario del direttore amministrativo e del direttore di presidio abbiamo inoltrato la richiesta che vi leggo velocemente la richiesta che dice preliminarmente si richiama l'accordo di cooperazione internazionale stipulato tra il Comune di Mussomeli e l'UNR l'Università Pubblica di Rosario è finalizzato tra le altre cose l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di medici specialisti argentini chirurghi, pediatri, anestesisti medici di medicina di urgenza ortopedici e tisiatri disposti a trasferirsi ai Mussomeli per prestare la propria opera professionale presso l'ospedale di Mussomeli una cui copia è stata regolarmente trasmessa a questa direzione strategica nelle settimane scorse nel senso che quando si riammono il 7 dicembre dell'accordo di cooperazione lo abbiamo trasferito per intero come vi dicevo sia alla direzione strategica sia all'assessorato sia alla Commissione Sanità sia alla conferenza dei sindaci in virtù di dall'accordo da me stipulato nella qualità di sindaco potenziale del Comune Mussomeli di autorità sanitaria locale ritengo significativo evidenziare che sono già pervenute a pochi giorni dalla stipula oltre 50.000 mail di richieste informazione e al momento oltre 2.000 uricoli di medici specializzati a quella nata ad oggi siamo già a 2.500 che hanno manifestato il proprio interesse e in dubbio dunque la straordinaria efficacia dell'azione si inquieta a presto al momento il nostro partner Università pubblica di Rosario è impegnato nell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse suddivise per specializzazioni cioè abbiamo chiesto al partner di fare delle cartelle per specializzazioni di lunghi, di alto peggio e via di scoperta e nell'ambito di tali specializzazioni nella ulteriore segmentazione di specialisti distinguendo tra coloro che sono già uniti nel titolo di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute e coloro che ancora non lo sono e per i quali è previsto un percorso di assistenza alla presentazione della specifica richiesta di riconoscimento nell'attesa dunque di trasmettere tutti i curriculum di inter e professionisti doni a potenziare la nostra struttura ospedaliera in allegato si inviano i primi tre appartenenti a medici specialisti uniti di regolare il decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute della Repubblica Italiana si tratta di tre chirurghi uno dei quali anche pediatra con una significativa esperienza professionale oltre che con passaporto italiano e decreto di riconoscimento ovviamente sono indicati i documenti il decreto laura medica che è iscrizione alla Repubblica di Roma perché lui è già iscritto alla Repubblica di Roma passaporto italiano si rimane specifico che nella integrazione che ho ulteriormente trasmesso nella stessa nota abbiamo chiesto ufficialmente all'indicazione strategica dell'ASP di attivare un bando di reclutamento per chirurghi dedicato alla struttura in maniera innamorata a lungo di Mussolini con l'auspicio che tal avviso il pubblico possa vedere la partecipazione più ampia possibile di medici specialisti non solo di chirurghi argentini che hanno già manifestato il loro interesse a prendere servizio presso la nostra struttura anche al fine di consentire all'ASP la selezione dei migliori profili professionisti l'urgenza che abbiamo manifestato all'ASP scaturisce dalla necessità assoluta di affrontare e risolvere definitivamente la pubblicità in digressa attualmente da parte di chirurgia dell'ospedale di Mussolini che vede ad oggi la presenza di un solo chirurgico con contratto a termine e scadenza il 31 marzo 2020 si ribadisce che l'azione da presa dalla scrivenza amministrazione ha come unico obiettivo quello di contrastare il condimensionamento della quantità e della qualità dei servizi sanitarie che si ribadisce all'inizio a causa della carenza dei medici specialisti certi di aver fornito il proprio personale contributo semplice di un'epidenza ovviamente ripeto ho avuto un colloquio con il direttore generale con cui mi vedrò nelle prossime ore mi hanno manifestato la volontà di capire quale percorso intraprendere una cosa deve essere chiaro ho anche ribadito una settimana fa che non non vogliamo che si tergiversi su questo aspetto abbiamo una necessità tutti gli ostacoli ad oggi sono stati riposti non c'è più la difficoltà di reperire i chirurghi prima era questo il problema ora ce li abbiamo abbiamo chirurghi specializzati abbiamo chirurghi con una grandissima esperienza testimoniata dal pubblico abbiamo chirurghi che hanno il decreto di rivolcina e noi ci sono più motivi per rallentare questo percorso di potenziamento del nostro ospedale e lo dico a beneficio non di nussolè lo dico a beneficio del territorio dell'ospedale sempre che è un territorio ben più ampio il territorio della tutta 15 comunità questi comuni e i cittadini di questi comuni non sono cittadini di Serebì hanno gli stessi diritti in termini di offerta sanitaria che hanno i cittadini di Palermo i cittadini di Cappalissetto i cittadini di Are che vengono ospedale più strutturale io ho due domande la prima peredica di Gliapieri che attiene a quali sono le condizioni così favorevoli che inducono tanti medici argentini a fare domanda in così breve tempo ecco cosa vedono cosa sperano di trovare in Italia in Sicilia in particolare in questo posto quali sono le basi motivi che li inducono a lasciare la terra per venire a lavorare qui bene prima prima di tutto e te lo dico questo con convinzione perché è lo primo che loro ci ci argomentano sono italiani la maggioranza sono italiani parliamo dell'80% ci sono 60 milioni di italiani all'estero e non si sentono dalla terra dove sono nati si sentono dalla terra dove sono i suoi conicini così che questa gente è italiana si sente italiana sono la maggioranza italiana ci sono altre ci sono persone che hanno la cittadinanza persone che non l'hanno perché non hanno fatto propriamente una procedura che è unicamente buro traffico e quello prima e sempre hanno avuto l'intenzione di vivere nell'Italia sempre e ci sono tantissimi che sono propriamente siciliani come questi che hanno inviato con la bianca hanno inviato la procedura sono siciliani quello è in prima istanza la seconda istanza in cui non si tratta non parliamo di persone che non hanno lavoro parliamo di persone con una situazione economica fantastica che hanno un'esperienza impressionante della maggioranza sto parlando della generale persone che hanno i suoi cliniche hanno uno sviluppo della sua professionalità della sua carriera enorme hanno lavorato all'estero hanno la sua esperienza hanno fatto seminari a Harvard in tutto il mondo sono persone propriamente importanti la sua esperienza è fantastica questa gente è alla ricerca di una qualità di vita un po' più di sicurezza di vivere con serenità sicurezza economica sicurezza no perché l'hanno sicurezza sociale culturale sviluppo sono persone parliamo del Marcosur il Marcosur ha una criminalità che ha alta la situazione delittiva è da considerare tra le variabili che fanno decidere una persona che può cedere una qualità di vita migliore come succede qua nell'Europa e anche perché ha i suoi origini e sempre sta pensando nella possibilità e questo è propriamente una proposta seria concreta per noi il trasfondo è una specie di riparazione storica perché l'Italia mai ha proposto così come l'abbiamo fatto qua con il sindaco con il nostro sindaco una soluzione a due realtà alla realtà italiana che ha un problema sanitario una crisi in crisi la crisi non è puramente la pandemia quello che ha disparato diciamo questa crisi sanitaria viene da anni no? e ci sono sono regioni dimenticate bene e quello succede in tutta l'Italia non solamente nella Sicilia e le diamo soluzione a questo problema sanitario italiano le diamo una soluzione con italiani che ora si danno all'estero e hanno la stessa cultura hanno la stessa sangue non parlo di biologismo non parlo di biologia non parlo propriamente parliamo della famiglia sono fratelli e sono sorelle hanno gli stessi cognomi sono vicinissimi a noi vivono come noi sentono come noi amano questa terra come tutti noi così che parliamo propriamente di una soluzione là anche perché sono italiani che hanno visto che questo per loro è una proposta concreta seria di integrazione di tornare i suoi orici e là è fantassimo anche là perché c'è la possibilità di rinnovare diciamo quelli che non stanno lavorando perché nell'argentina il taxista è architetto il taxista è medico c'è una popolazione universitaria altissima così che gli danno la possibilità loro che disino diciamo a lavorare questi che vengono qua non sono quelli che non hanno lavoro sono quelli che hanno un lavoro di più hanno una qualità di vita di vita alta e sono quella una cosa fantastica perché abbiamo parlato tantissimo tempo fa del tasso di natalità vengono a soluzionare anche questo qua perché sono famiglie la macionanza sono famiglie di 30 30 40 anni i genitori i due medici uno con una specialità un altro con l'altra e tra due o tre figli piccoli figli di 2 3 4 7 8 anni sono il futuro dell'Italia della Sicilia sono italiani e credo che è oltre che questo accordo una cosa più l'occevivo diciamo non è solo questo di soluzionare una questione sanitaria ma anche di rinnovare la popolazione di dare la chiesa che abbiamo bisogno qua di soluzionare il tasso di natalità soluzioni sanitarie e tantissime altre cose anche economiche ma soprattutto come questa scelta di investire acquistare casa è rivoluzionario secondo questo apre alla seconda domanda che chiaramente faccio al sindaco perché tutto poi si riduce alla volontà politica di dare seguito a quella che è un'iniziativa come il bene ha evidenziato Erika sicuramente innovativa rivoluzionaria se vogliamo perché non è solo la visione sanitaria ma significherebbe ripopolare anche posti come i nostri dove la denatalità è all'esterno e urbani abbiamo anche un medico per cui sicuramente il dottore Cialino ci dirà che la medicina è unica a livello mondiale quindi non ci sarebbero problemi di interfacciarsi con quelle che sono le terapie anzi potrebbe essere solo un arricchimento una parte di noi e allora la domanda che faccio al sindaco è mi siete dati una deadline oltre alla quale voi romperete gli intugi perché è chiaro che è una scelta politica la scelta politica significa si vuole fare si fanno i bandi bando alle ciance non si vuole fare non si fanno i bandi è questa tra virgolette come dire il fatto che la comunicazione avvenga ridosso di una conferenza stampa penso che sia indicativa di un modo di procedere in qualche modo come dire con l'acqua alla gola ecco qual è il tempo che vi siete dati e come intendete procedere il tempo è semplice noi abbiamo avuto la pazienza perché riteniamo che fino a prova contraria riteniamo che gli obiettivi siano comuni cioè quello di potenziare la struttura ospedale ci rendiamo conto che ci sono essendo un aspetto innovativo perché di questo stiamo parlando c'è la necessità di approfondire la tematica per evitare di esporsi a critica o a un altro ritengo che il tempo per fare questo percorso sia stato sufficiente già quindi entro una settimana dobbiamo vedere l'atto amministrativo che può essere semplicemente l'atto di indirizzo anche l'atto di indirizzo a predisporre il banco per portare a cumplimento questo aspetto d'altro canto non abbiamo molto tempo perché come dicevamo abbiamo oggi un reparto di chirurgia con la presenza di un solo di un primo e di un primo con un contratto in scadenza al 31 marzo 2022 ma anche se fosse prorogato al 30 giugno 2022 il contratto non è pensabile che un reparto di chirurgia di una struttura ospedaliera che serve in una comunità di 35.000 persone possa reggersi su una sola persona che ha le sue esigenze che possono essere al di là per quanto voglio dire possono essere attaccato quindi per noi la certificazione della volontà significa che da qui a una settimana dobbiamo avere il sancito con altri registrati quindi l'obbio del proposto se questo non dovesse malautamente succedere quali saranno abbiamo delle idee per abbiamo già delle ipotesi su come portare a ribalta questo tema oltre che diciamo fare le dimostranze nostre perché una volta portata la soluzione quello che ci rimane da fare è solo l'atto di dimostranza del dire perché non è applicato abbiamo una possibilità che riteniamo possa essere efficace e se entro questa settimana non ci sono risultati la metteremo diciamo che siamo sicuri ma io sono un commento che ripeto voglio sempre pensare all'aspetto in positivo anche se di questi tempi parlare di politica ma io però prendendo le parole del mio sindaco è stato approvato nel 2019 e poi ci sono avuti tre anni per arrivare all'ultimo atto propedeutico all'assunzione di personale però voglio dire tre anni è stato un percorso accidentato all'interno di personale adesso diciamo non ci sono più ostacoli di nessun genere da più di questo amministrativo e burocratico io penso ho avuto modo di ovviamente perché quando mi sono mosso per la sottoscrizione del contratto mi è sembrato corretto opportuno di interessare il direttore generale dicendo guarda che stiamo facendo questo parlare indicazioni anche di tempistiche e anche di quella condivisione che viene dell'assunzione di Grazie a tutti.